Si parte con il sorriso da alcuni piccoli supporti a se giallo-blu. La partita di quelle calde è da una parte un paese che porta oltre 400 unità allo stadio che sono i ritorni in promozione dopo 20 anni. Dall'altra l'unione calcio Riccione che è la partita con i favori del pronostico ad inizio campionato. Si spera nel segno X tra Sant'Ermette e Morciano anche se giallo-blu di Fabri sono costretti a ottenere i tre punti. L'inizio è di poco che incoraggiante. Amantina rientra dopo più di un mese al primo a lungo si stia di costretta la sala di campo. Anzitempo il Riccione ne approfitta nei migliori dei modi prendendo metti. L'iniziativa di Amati si spegne di poco alta ma il preludio al gol. Dalla Badierina in effetti Biad è pennella per Musabegliu che schiaccia i paroli di testa che sbatte più a suo terreno per poi infilarsi alla destra di Semprini. Sarà questo il gol partita. Il nuovo affetti accerca l'immediata risposta. Cupi mette al centro per l'incornata di Francesco Baldinini che si alza sopra la traversa della porta difesa da Giustolisi. Qui è lo stesso Cupi ad aprire e chiudere questa azione dopo un duetto con Tommaso Raffaelli che lo porta a sfiorare la marcatura. Il rietro dagli spogliatori produce questa rimescia laterale sulla quale Baldinini appoggia di testa la sfera a Giustolisi. La nuova feta si sbilancia e permette a buon tempo di saltare Rinaldi ma poi durante la corsa quest'ultimo si allunga troppo il pallone permettendo a Semprini di recuperarlo. I locali sono alla ricerca disperata del pareggio. Bolzonetti ringrazia Magalese da perfetto attaccante. Fa il movimento esatto per ricevere il pallone dal compagno ma scarica la sfera addosso a Semprini. Amati da calcio piazzato prova a chiudere a lui ma niente da fare. Dalla parte opposta Gori pennella per Baldinini che di testa non riesce a incidere come vorrebbe. Ma il Semprini show è destinato a proseguire. Pallone scaricato su Lorenzo Fraboni che il pressato a Bolzonetti favorisce la conclusione di quest'ultimo. Semprini nega la rete al centocampista in maglia numero 4. L'arbitro non vede neppure la deviazione del portiere. Il nuovo affetto è tenuto a gara dal proprio portiere e cerca la disperata di gettarsi in area avversaria. Farar Begoli innesca Cupi che in torsione non trova la deviazione vincente stile Becchi Tempi. Lo stesso terzino dueta con Baldinini. Pallone alzata campanile prima che l'attaccante riesca a recuperarlo per calciarlo di forza verso lo specchio della porta. Pallone alto. Nel finale Pivi appena entrato riceve il cartellino rosso per una manata rifilata a Polo Gori che nel tentativo di proteggere l'uscita di Semprini riceve per l'appunto l'irrigolarità dell'avversario. Cartellino rosso diretto è uscita anzitempo dal terreno di gioco. La gara termina qui. Il Riccioli mendica la sconfitta dell'andata mentre nuova ferita spera ancora una vittoria in casa di Valconca e una sconfitta in contemporanea di Morciano per aggiudicarsi questo campionato. Ma davvero la strada sembra difficile. Auguri di cuore. Grazie. Grazie.